Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale, oggi voglio fare una sorta di video aggiornamento, approfondimento degli spray cappelli Beautylicious Delights, aggiornamento perché sono finalmente di nuovo disponibili sul sito, soprattutto uno spray volumizzante che è richiestissimo ed era finito, praticamente adesso sono di nuovo tutti e due disponibili, ma la novità è che sono di nuovo disponibili con lo stesso prezzo, la stessa formula, però il flacone è più grande, invece di 100 ml adesso il nuovo flacone conta 150 ml, quindi grazie anche al vostro supporto riusciamo a migliorare e a venire incontro anche alle vostre richieste. Il video è di approfondimento perché vorrei farvi conoscere meglio i benefici che i capelli possono trarre dall'utilizzo di questi spray capelli, ossia fare un acquisto consapevole avendo ben presente del perché gli ingredienti che sono presenti in questi spray possano far bene ai vostri capelli. Prima di partire con il singolo spray volevo parlarvi anche di quello che c'è dietro, quindi il laboratorio, qui collaborazione stiamo realizzando questi spray capelli, è un laboratorio spin off dell'università di Bologna, è un laboratorio che ho scelto tre anni fa quando ho realizzato questi spray capelli anche la linea viso perché ero entusiasta del metodo di estrazione enzimatica dei principi attivi che loro utilizzano, è un metodo molto innovativo, brevettato e certificato che praticamente utilizza in modo esclusivo solo l'acqua come solvente e utilizza dei processi di estrazione alimentare. Questo fa sì che sia un processo ecosostenibile anche meno costoso perché appunto non sono previsti i processi di smaltimento che sono previsti per i solventi organici e in più grazie a questa tipologia di estrazione enzimatica innovativa si riesce a recuperare della pianta non solo parte del principio attivo come si usa a fare con i solventi organici ma si riesce addirittura ad ottenere l'intero fitocomplesso vegetale della pianta, pensate, il che quindi cosa vuol dire per la nostra formula, per il nostro prodotto? Vuol dire che la percentuale presente è ben maggiore per quanto riguarda i principi attivi solitamente utilizzati. Prendiamo un po' di respiro, sempre quando voglio seguire il filo del pensiero inizio a parlare molto velocemente. Ok, allora per quanto riguarda le formule dei due spray capelli, sono delle formule leggerissime, sono delle formule che non contengono una quota grassa, che non appiccicano e non appesantiscono i capelli, se utilizzate soprattutto in modo corretto. Come dicevo le formule sono molto leggere, non contengono oli, sono delle formule che ci tenevo in particolar modo che siano vegane, quindi che non abbiano ingredienti di derivazione animale e poi ovviamente gli ingredienti sono al 100% quindi vegetali, gran parte degli ingredienti sono anche provenienti da agricoltura biologica e ovviamente non contengono alcol, non contengono siliconi, parabeni, quindi sono degli spray insomma al 100% naturali, non contengono ingredienti di derivazione sintetica. Al prossimo episodio